Il caldo miete un'altra vittima sulle spiagge salentine. Dopo la morte di un uomo di Bergamo in vacanza a Porto Cesario, le elevate temperature sono state fatali anche per un turista a 71enne di Padova, Nedio Antonio Pillotto, in vacanza presso Torre San Giovanni. L'uomo nella tarda mattinata di ieri aveva deciso di fare un bagno nelle acque antistanti in Lido Bora Bora dove soggiornava, ma dopo pochi minuti ha accusato un malore causato da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. I bagnanti, notando l'uomo accasciarsi sul bagno asciuga, sono immediatamente accorsi per soccorrerlo, allertando i bagnini di un Lido nelle vicinanze dotato di defibrillatore e di sanitari del 118, che giunti tempestivamente non sono però riusciti a salvare la vita all'uomo, il cui cuore aveva purtroppo cessato di battere. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Uggento, guidati dal comandante Giovanni Cazzarò ed il pubblico ministero di turno Massimiliano Carducci. Il corpo dello sfortunato turista sarà esaminato dal medico legale per poi essere riconsegnato ai parenti.